In uno studio pubblicato da Markov e Fitzpatrick che si chiama Is Reparability Enough c'è questa analisi che va a cercare le motivazioni dietro al perché noi andiamo a cambiare telefono e la conclusione a cui arrivano è che non è veramente la riparabilità il problema nella stragrande maggioranza dei casi ma è il desiderio di cambiare, è il bello, i nuovi modelli che ci forzano poi a pensare, a svalutare quanto già possediamo e quindi ci portano ad acquistare un dispositivo nuovo. Salve a tutti, siete all'ascolto di Insider dentro la tecnologia, un podcast di Digital People e io sono il vostro host Davide Fasoli. Oggi in questa puntata natalizia e l'ultima del 2021 parleremo di come possiamo dare maggiore valore ai dispositivi tecnologici che abbiamo attraverso il riutilizzo, la riparazione e la condivisione. Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana vi ricordo che potete seguirci su Instagram, a chiocciola dentro la tecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttamente sul nostro sito. Lo scorso 24 novembre è stata scoperta una vulnerabilità che è stata definita la più grave di sempre e soprattutto negli ultimi giorni è sempre più sfruttata per attività malevole di qualsiasi tipo. Il bug, chiamato Log4Shell, è legato alla libreria Log4J, che ormai è diventata uno standard nella realizzazione di siti web e viene usata per salvare alcune informazioni sulle pagine visitate, le azioni effettuate dagli utenti, il browser utilizzato e molto altro. È stato però scoperto che utilizzando una specifica serie di caratteri è possibile eseguire codice e potenzialmente prendere il controllo del server su cui viene eseguito il sito. Il tutto è reso ancora più grave dal fatto che Log4J è utilizzato su quasi 3 miliardi di dispositivi e attualmente si registrano circa 100 attacchi al minuto sul 40% delle reti aziendali mondiali. Se infatti molte aziende sono riuscite a mettersi a riparo quasi subito, con un semplice aggiornamento, ancora tantissimi server utilizzano programmi e librerie troppo datati per essere aggiornati in pochi minuti. E questo ovviamente le rende delle prede facili per moltissimi criminali e rendendo seriamente Log4Shell un problema, come è stato definito, di proporzioni catastrofiche. Nella scorsa puntata abbiamo introdotto per la prima volta il tema delle ghost e cloud kitchen, ovvero particolari cucine nelle quali viene preparato solamente cibo da sporto e in certi casi anche take away. E per rimanere sull'argomento, secondo quanto riportato da Bloomberg, la celebre piattaforma TikTok ha annunciato che nel 2022 lancerà il proprio servizio di ristorazione grazie a una partnership con Virtual Dining Concepts, un'azienda già navigata nel settore che aiuterà la società cinese a consegnare a domicilio i piatti preparati. In sostanza, TikTok sfrutterà il servizio delle cloud kitchen di ristoranti esistenti, comprese alcune delle catene del partner commerciale, fornendo loro la formazione e il packaging per gli alimenti e soprattutto le ricette, le quali saranno ispirate ai piatti più famosi su TikTok, resi celebri dagli stessi influencer. Secondo le fonti già citate, inizialmente la pietanza che darà il via a questo progetto sarà la celebre Baked Feta Pasta, una sorta di pasta al forno con fete e pomodorini, che con il nome di TikTok Pasta è stata la ricetta più cercata quest'anno su Google negli Stati Uniti. Nelle ultime settimane siamo tutti corsi ad acquistare regali per le festività e probabilmente, imbattendoci nei prodotti tecnologici, ci siamo accorti del fatto che, a differenza degli scorsi anni, i prezzi sono rimasti costanti se non aumentati, e fra le varie cause ha avuto un forte impatto la carenza di microprocessori. Per capire meglio le motivazioni di questa crisi e per cercare delle alternative più green ai nostri acquisti futuri, abbiamo nuovamente invitato Alessandro Kocilova, docente di informatica e autore del podcast RAE Storie Digitali. Bentornato Alessandro. Grazie per, insomma, avermi richiamato, è sempre un piacere. Nell'introduzione ho fatto appunto riferimento all'acquisto di prodotti nuovi. Perché invece è importante puntare sul riutilizzo dei prodotti, soprattutto, come anticipavo, in questo momento, in questo periodo? Beh, allora, se parliamo di dispositivi tecnologici che montano al loro interno dei microchip, quindi di fatto adesso quasi tutti i dispositivi, da un forno a microonde a un'automobile, passando per uno smartphone, che è magari l'oggetto principe, l'oggetto del desiderio massimo, insomma, in questo periodo natalizio, innanzitutto è una questione di disponibilità. Cioè, questa crisi dei microchip globale non è risolvibile, né in settimane, né in mesi. E se vuoi, in breve, prova a tratteggiare quali sono i punti. Allora, di fatto, il 50% dei microchip al mondo sono prodotti da un'azienda, a Taiwan, che è la TSMC. È stata definita in maniera simpatica l'azienda più influente di cui non abbiamo mai sentito parlare. Perché in pochi, effettivamente. Sondaggio, tu la conoscevi la TSMC? No, non la conoscevo. Ok. Quindi, più del 50% da un'azienda sola. E se mettiamo insieme il crollo economico indotto dalla pandemia, che ha spinto poi, a sua volta, le case automobilistiche a dire, beh, non venderemo macchine, quindi hanno tagliato gli ordini di chip, ma poi il prezzo di microchip è rimbalzato, queste case automobilistiche le hanno riordinati, perché temevano poi di non essere più in grado di fornire le automobili, come è successo. e a questo uniamo anche la guerra commerciale e tecnologica tra Stati Uniti e Cina, beh, capisci che il risultato è veramente complesso, questo nodo da sciogliere. In più, aggiungo che è una questione di filiera dei microchip, cioè la supply chain non è qualcosa di banale. Stiamo parlando di oggetti costruiti con tecnologia a 3 nanometri, cioè un ventimillesimo dello spessore di un capello. Sì, sono tecnologie estremamente complesse e poi, come dicevi, c'è sempre più la necessità oggi di chip, perché, pensiamo appunto al settore delle automobili che hai citato, non c'era questa grande necessità in passato. Quindi, appunto, manca la materia prima. E cosa possiamo fare noi per sopperire nel breve a questo problema? Come dici, non c'è la possibilità in breve di produrre quantità superiori di chip, anche appunto data l'estrema complessità della cosa. Quindi ci rimane tra le opzioni quello di rendere più longevi i dispositivi che abbiamo, giusto? Sì, in realtà un'altra opzione sarebbe quella di acquistare prodotti che hanno già avuto una prima vita. Cioè, adesso va molto il commercio di prodotti high-tech come smartphone, tablet, computer, ricondizionati. Quindi pare al nuovo dal punto di vista estetico, ma che già hanno uno, due, anche tre anni. Ci sono molte aziende nel settore, per esempio cito Reappi, Reformed o Swappi, e tutte però sottolinano un aspetto che magari in primo luogo non associeremmo alle motivazioni per acquistare un dispositivo ricondizionato. Magari pensiamo al prezzo oppure appunto al fatto che c'è carenza di microchip e quindi ci vogliono molti giorni, settimane e anche mesi per avere un dispositivo. Loro citano spesso l'ecosostenibilità di questa scelta di acquistare usato. Infatti non pensiamo al fatto che ci sono molti materiali che sono richiesti in uno smartphone dal cobalto, l'oro, il litio, il rame. E certo, noi pensiamo di riciclarli i nostri materiali, ma solo il 17,4% di questi viene effettivamente poi riciclati. E quindi capisci che quei pochi riciclati in maniera corretta non bastano per alimentare un settore così vorace. Quindi bisogna andare a minare in paesi del terzo mondo con i problemi che puoi immaginare a livello sociale, ma anche insomma di violazioni di diritti umani, di conflitti armati. Bisogna andare a minare nuovi materiali e c'è un forte problema anche di lavoro minorile. Quindi oltre che un problema di sostenibilità ambientale, acquistare senza fine prodotti nuovi ha anche conseguenze di sostenibilità sociale. E poi in un secondo, da un punto di vista insomma prettamente ambientale, ecco, questi processi, estrarre nuovo materiale in quina, produrre nuovo materiale, nuovi dispositivi a un costo energetico molto alto. E poi appunto abbiamo come scelta invece dall'altro lato oggetti molto simili al nuovo che invece sono già stati prodotti e una vita davanti ancora ce l'hanno. Quindi la scelta etica spesso è appunto già partendo dall'acquisto, partire dall'usato. Sì certo, c'è effettivamente anche il tema ambientale che è importantissimo. E tornando alla domanda invece che ti facevo poco fa, oltre appunto a questo aspetto dell'acquisto, dell'usato, di prodotti ricondizionati, possiamo fare comunque qualcosa per rendere più longevi quelli che abbiamo già? Allora la risposta è assolutamente sì. Come qualcuno dice non c'è niente di più ecosostenibile di quanto già abbiamo e quindi come facciamo a renderlo più longevo il nostro telefono? Allora intanto più o meno la statistica dice che 2,5 anni è la durata di un dispositivo, di uno smartphone. Tipicamente si rompono schermo, porta usb e la batteria come sai insomma finisce i suoi cicli di vita. Più raramente poi si parla anche del problema delle performance ma questo è un problema reale specialmente per i dispositivi di fascia bassa. Quindi un'iniziativa, un passo avanti che potremmo fare a livello personale è o scegliere di far riparare il nostro dispositivo invece che farci tentare dal nuovo acquisto, magari sotto Natale, il modello nuovo o addirittura imparare noi stessi a riparare il nostro dispositivo. Sai che io insegno informatica, mi diletto un po' nell'elettronica e ogni volta è una sfida quando devo aggiustare un prodotto nuovo ma da grande soddisfazione oltre al risparmio. La stessa Apple per esempio adesso all'interno della battaglia del diritto alla riparazione ha portato avanti una nuova iniziativa chiamata Self Service Repair in cui promettono di vendere prodotti di ricambio ma anche concedere sconti quando si recuperano componentistiche vecchie, rotte e fornire materiali e strumenti per la riparazione. Non è banale, non è per tutti però questa è sicuramente una via. In alternativa c'è Fairphone che è una startup olandese che ha fatto un telefono modulare riparabile proprio by design. Cioè di fatto questo telefono immaginatelo un po' come fatto di Lego o fatto non proprio a incastro però in maniera molto semplice quindi certo ha un design un po' più spesso di un telefono a parità di hardware ma è davvero a portata di tutti ripararlo e sul loro sito vengono ancora le parti di ricambio per i loro modelli vecchi del 2015 quindi c'è da fidarsi sotto questo aspetto e questo certo allunga la vita del nostro dispositivo. E sì, fra l'altro di Fairphone ne avevamo parlato anche la scorsa volta che è rivenuto a trovarci e nel tempo è migliorato rispetto a un anno e mezzo fa come è cambiata questa realtà di Fairphone? Allora di fatto quello che dicono gli esperti di tecnologia che hanno avuto modo di provarlo dicono che questo è il primo vero dispositivo Fairphone che consigliano a tutti ecco perché è molto normale cioè è simile in tutto e per tutto a un telefono di ultima generazione solo che è più facile da riparare e è molto più probabile che vi duri davvero tanti anni tant'è che la garanzia è di 5 anni. Aggiungo a questo però un piccolo elemento psicologico cioè in uno studio, ho fatto i compiti a casa oggi come puoi vedere in uno studio pubblicato da Marco Fitzpatrick che si chiama Is Reparability Enough? c'è quest'analisi usando proprio Big Data che va a cercare le motivazioni dietro al perché noi andiamo a cambiare telefono e la conclusione a cui arrivano è che non è veramente la riparabilità il problema nella stragrande maggioranza dei casi cioè per esempio io non ho mai rotto lo schermo di nessun mio telefono ma è il desiderio di come dire cambiare è il bello i nuovi modelli che ci portano poi a pensare a come dire a svalutare quanto già possediamo e quindi ci portano ad acquistare un dispositivo nuovo E questo non può essere anche spinto magari dalle stesse aziende attraverso il marketing mi viene da pensare? Ma assolutamente sì e voglio dire quando adesso non so se posso fare un esempio però ecco la marca di telefoni che possiedo aggiorna i modelli ogni sei mesi quindi ogni sei mesi il telefono che hai acquistato diventa non dico obsoleto però non è più il meglio che c'è sul mercato e quindi questo certo ha un grande effetto la stessa Fire Phone per carità bravi e belli però di fatto chi ha il Fire Phone 4 ha un telefono migliore di chi ha il Fire Phone 3 ecco non sono anche loro come dire immuni da questo tipo di critica Certo ma in quel caso dipende anche dal fatto che inevitabilmente la tecnologia migliora si miniaturizza e quindi possono anche loro produrre telefoni penso migliori anche con una filosofia diversa da quelle delle grandi aziende Esatto esatto come dicevamo prima poi la tecnologia avanza i nanometri dei processori diminuiscono le batterie migliorano quindi è normale anche voler provare a fare un prodotto più all'avanguardia ecco se no gireremo ancora col 3310 ecco Prima che realizzassimo questa chiacchierata mi hai parlato di due realtà due progetti strettamente legati ai temi che stiamo affrontando ce li vuoi raccontare e spiegare qual è la loro idea di fondo Sì allora diciamo che uno dei progetti in cui sono incappato ultimamente a Bologna è il progetto Quattroocchi che come definirlo è una sorta di esperimento sociale barra gioco di società barra opera d'arte molto in tema col Natale perché ha a che vedere con la cultura del dono ma anche del consumo visto che di fatto il Natale è una festa laica del consumo che mette d'accordo tutti da occidente e oriente e l'idea dietro a questo esperimento è qualcuno dona un oggetto che viene raccolto in un banchetto in una delle più grandi biblioteche di Bologna la biblioteca Sala Borsa e ogni oggetto donato viene messo in una scatola in stile Amazon fa conto e infatti trovo l'aspetto più geniale di questo progetto il fatto che a livello grafico e visivo è tutto molto curato come se fosse un brand dietro a questo progetto e invece sono proprio i brand che va a dissacrare perché appunto ogni oggetto viene donato a chi dona viene dato un piccolo biglietto con un appuntamento in un luogo di Bologna io devo ancora avere il mio perché ho donato un oggetto ma avrò l'appuntamento il 23 gennaio e un numero e quindi gli oggetti vengono tutti impacchettati in queste grandi scatole scatole in stile appunto Amazon e nella seconda fase dopo che le scatole sono state esposte in questa biblioteca beh chiunque può passare prendere un numerino e avere un regalo e anche qua si gioca molto sul prendere in giro queste grandi aziende si riceve una bustina in stile Apple Store fa conto però tutta arancione e all'interno l'oggetto ed è casuale ed è assolutamente casuale però appunto come un po' il mio progetto RAE questo quattro occhi vuole dare una vita a oggetti che magari erano inutilizzati inerti in casa da anni e vuole creare una connessione tra le persone in un tempo in cui voglio dire tutto passa tramite gli schermi e il covid ha pure dato un'accelerata sotto questo aspetto è interessante insomma questo modo di esaminare sia come dire il nostro rapporto col consumo che con le dinamiche sociali perché appunto a un certo punto ci sarà l'ultima fase di appuntamento al buio in cui ti confronti e vedrai quello che hai incontrare alla persona a cui hai donato un oggetto e vi confronterete sul perché su cosa rappresenta quell'oggetto per te sulla storia legata a quell'oggetto e magari chissà un nuovo proprietario potrà farne miglior uso quindi gli oggetti possono essere di qualsiasi tipologia o specifici? di qualsiasi tipologia faccio uno spoiler ma sì faccio uno spoiler e dico che io ho donato un vecchio lettore mp3 di quelli fatti a chiavetta usb con dentro le puntate del mio podcast caricate così giusto per farmi un po' di marketing virale però un'amica so aver ricevuto una pietra dipinta a mano ho visto persone davanti a me donare libri quindi assolutamente di ogni tipo non solo non solo tecnologico è un progetto già fatto in passato a Trieste devo dire che sotto Natale però ha un effetto ancora più come dire più attuale colpisce ancora di più ho capito è una assolutamente una bellissima realtà l'altro progetto invece di di cui mi parlavi è legato al tema della della condivisione introduciamo un termine quello della della sharing economy però una sharing economy che parte dal basso quindi dalle persone non è fatta dalle aziende in che cosa consiste questa quest'altra realtà quindi allora quest'altra realtà che tra l'altro è legata a doppio filo alla prima che ti avevo menzionato forse non ti avevo detto perché sono proprio due progetti paralleli si chiama Leila ed è si spiega nel suo nome è la biblioteca degli oggetti quindi l'idea è proprio di creare una sharing economy ma tra utenti cioè i soci di questa biblioteca io sono uno dei 264 soci di Bologna e mettono in condivisione un oggetto pagano un un'iscrizione annuale ma stiamo parlando di cifre decine di euro 20 euro insomma e in cambio di questo possono ricevere un qualunque oggetto a disposizione della biblioteca perché tanto voglio dire faccio un esempio quante volte dobbiamo montare un buco in un muro cioè ci è capitato ma per questo vuol dire che dobbiamo possedere un trapano no cioè quando mi serve un trapano lo prendo da insomma da quelli forniti dalla biblioteca che ne ha svagati in condivisione e così facciamo lavorare di più il trapano che altrimenti resterebbe inutilizzato gran parte del tempo acquistiamo solo quello che è davvero necessario quindi ci ricolleghiamo al discorso ecologico di prima e poi c'è anche una sorta di esercizio di fiducia no perché tu dici magari insomma anche parlando con voi era venuto fuori sì ma la qualità degli oggetti qual è il livello di oggetti in condivisione in realtà la qualità è molto alta perché ci sono da strumenti musicali a strumenti per lo sport outdoor addirittura elettrodomestici di molti tipi anche per l'infanzia l'idea è appunto se tu hai fiducia negli altri ti fiderai di come tratteranno i tuoi oggetti e quindi non avrai remore a mettere qualcosa di valore e questo trarrà sempre ancora più utenti e crea una sorta di comunità no? è più fatto dalle persone invece che è fatto con l'azienda è proprio un bel posto in cui andare si l'aspetto quindi anche sociale che può creare la condivisione di oggetti tra persone comuni ecco assolutamente si assolutamente l'aspetto sociale loro stessi dicono che insomma ha un ha un impatto tra l'altro volevo anche dire che la cosa notevole che non è che questa Leila si tratta di una eccellenza solo bolognese ma ne esistono 25 a livello globale da Berlino a Toronto passando per Praga e Londra quindi non siamo solo noi bolognesi a aver avuto una bella idea anzi l'abbiamo probabilmente importata dall'estero ecco grazie Alessandro per averci fatto questa panoramica su dei temi che sono di estrema attualità anche al di là del mondo della tecnologia e poi per averci raccontato questi questi due interessanti progetti a presto grazie grazie a voi un saluto ai ragazzi di Leila e al collettivo dietro quattro occhi orecchie d'asino e insomma alla prossima buone feste e così si conclude questa puntata di Insider dentro la tecnologia io ringrazio come sempre la redazione e in special modo Matteo Gallo e Luca Martinelli che ogni sabato mattina ci permettono di pubblicare un nuovo episodio per qualsiasi tipo di domanda o suggerimento scriveteci a redazione chioccioladentrolatecnologia.it seguiteci su Instagram a chioccioladentrolatecnologia dove durante la settimana pubblichiamo notizie e approfondimenti qualsiasi caso nella descrizione della puntata troverete tutti i nostri social se trovate interessante il podcast condividetelo che per noi è un ottimo modo per crescere e non dimenticate di farci pubblicità noi ci sentiamo la settimana prossima a